Salve a tutti, sono Gabri Costa. Guardate anche questo video del gioco Tartaruga Ninja Shredder Revenge. Vi farò vedere un collezionabile da trovare. Guardate che cosa troveremo. Un insetto disgustoso. Bene, è tutto. Vi saluto. Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Questo era un breve video, ma ricordatevi che gli insetti disgustosi dobbiamo dargli alle rane mutanti.